Bentornati con le previsioni del tempo di Telenuova. Domani lunedì 29 settembre, giorno in cui la Chiesa festeggia San Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangelo. Ancora bel tempo su tutta l'Italia. Sole sulle nostre regioni, con un clima prevalentemente mite quasi estivo al sud. Qualche annuvolamento sulle zone alpine occidentali, con deboli rovesci in particolare sull'Alto Piemontese. In Lombardia peggioramenti dalla sera, sulle regioni meridionali quasi 30 gradi praticamente ovunque. In Campania sarà un inizio di settimana strepitoso, sotto l'aspetto climatico il sole la farà da padrona, le temperature gradevoli stazioneranno nei valori massimi dai 24 ai 29 gradi, le minime tendenzialmente in aumento di un paio di gradi, sulle parti costiere qualche addensamento con intensificazione della nuvolosità. Ma non arriveranno più oggi, i venti deboli, il mare poco mosso.